Ecco, facciamo così, piano piano, facciamo 15 secondi per ognuno che gli bastano, vai su Ridolfi un pochino più avanti, grazie, oggi tira, oggi tira, quanto tira? Tanto, tira tanto eh? Oggi si, è proprio dura oggi, oggi è duro eh? Come è stato il percorso Pardello? Ma parliamo dopo, la battuta si, ma la conversazione no!